Ciao a tutti ragazzi, come andiamo? Bentornati sul canale Time's Gadget. Siamo arrivati a dicembre, siamo arrivati a Natale, ma soprattutto siamo arrivati a fine di questo 2019. Allora ho voluto cogliere l'occasione per portarvi un video che mai come quest'anno mi avete richiesto davvero in tantissimi, ma soprattutto mi avete fatto in molti la stessa domanda, e cioè quali sono i miei gadget preferiti, ma soprattutto quali sono quelli che utilizzo di più a livello quotidiano, all'infuori di quando vado in fiera o quando vado per qualche evento per lavoro, ma quali sono quelli che porto con me in tasca o porto con me anche quotidianamente nello zaino. Ecco, oggi andremo a vedere tutti i gadget che utilizzo di più, che siano essi un po' più vecchi, un po' più nuovi, però oggi voglio far vedere quello che poi vado realmente a utilizzare tutti i giorni, o perlomeno quello che utilizzavo di più durante quest'anno, durante questo 2019. Prima di iniziare, come al solito ragazzi, vi ricordo sempre di lasciare un bel like se vi piacciono questi tipi di video, se vi piacciono questi tipi di recensioni, e non scordate di iscrivervi qui sul canale YouTube, accendere la campanella e trovate qui sotto delle notifiche, e soprattutto poi iscrivetevi anche a tutti gli altri canali social, in primis a Instagram e a gruppo anche di Telegram. Io al solito vi lascio tutti i link qui sotto sempre in descrizione. Allora ragazzi, partiamo subito ad andare a vedere gli smartphone che sto utilizzando di più in questo periodo, e che mi sono piaciuti un pochino di più rispetto agli altri. Anche se poi è da dire che gli smartphone sono gli accessori che vado a ruotare più velocemente, sono quelli che mi durano al massimo 3, 4, 6 mesi se va bene. Qualcuno, qualche raro modello è durato un anno, ma è davvero cosa molto molto rara, anche perché sono costretto a cambiarli per poterli utilizzare come primo telefono. In questo periodo comunque, in quest'ultimo mese, quali ho utilizzato? Ho utilizzato questi. Attualmente sto utilizzando come primo telefono l'iPhone, abbinato anche all'Apple Watch, e vi posso dire che mi sto trovando abbastanza bene, seppur c'è sempre qualcosina che non mi quadra, che mi fa storcere il naso proveniando da Android. Però comunque lo sto utilizzando per provare i tanti altri gadget e accessori. Affiancato in questo periodo sto utilizzando anche il Pixel 4 i6 XL. Nella recensione completa vi dirò che cosa ne penso, però già vi posso anticipare che mi piace tanto per alcuni tipi di foto, in particolar modo l'effetto bokeh, ma mi ha fatto storcere il naso per tanti altri aspetti. Infatti io per questo 2019 penso che il telefono più completo con cui mi sono trovato meglio è questo qui, è il Galaxy Note 10 Plus in particolar modo. Lo so che è più grande, il 10 ha dimensioni un po' più contenute, però l'espansione in moria e qualche chicca in più di questo 10 Plus me lo fanno preferire. Secondo me è quello che preferisco perché è più flessibile, è quello più completo. Mi sta facendo molto anche il reparto fotografico, ha qualcosina e meno rispetto ai video, rispetto all'iPhone, e forse qualcosina e meno nelle foto bokeh rispetto al Pixel, però poi nel complesso, ragazzi, è quello che vi offre di più. Mi è piaciuta anche molto la S Pen, mi è piaciuta anche il livello di qualità audio, la qualità video, la qualità della fotocamera anteriore e anche del display. E soprattutto ha un ottimo ecosistema. Forse questo qui Samsung è l'unico che ad oggi riesce ad essere comparato e confrontato in maniera diretta con l'ecosistema di Apple. Ecco perché continuo a preferire, per quanto riguarda il segmento Android, per quest'anno, per questo 2019, questo Note 10 Plus. Molto agli smartphone però, ragazzi, abbiamo altri piccoli accessori, che utilizzo quotidianamente. E in particolar modo queste tre pennette formano un po' la base del mio lavoro. O comunque sono quegli accessori essenziali che io consiglierei a chiunque come me utilizza gli smartphone o utilizza anche le fotocamere per lavoro e deve passare foto, video, file di vario genere da un dispositivo ad un altro. In primis abbiamo questa penna della SanDisk, che è la Xpand. Ve l'ho fatta vedere, ve l'ho anche accennata diverse volte nelle varie recensioni per le cover per l'iPhone, ma anche nella recensione completa dell'iPhone. Perché questa qui, secondo me, è la penna essenziale che tutti dovrebbero avere se avete necessità di spostare file, spostare video, foto, qualsiasi genere comunque di file da un iPhone ad un altro dispositivo e viceversa. Infatti, tramite questa penna, che è composta da una porta USB-A da questa parte e la porta Lightning classica da quest'atta, che si allarga in questa maniera e si rimette in questo modo per non far rovinare la porta Lightning seppur comunque non c'è un incastro. Comunque, tramite questa penna e tramite l'applicazione dedicata a Xpand voi potete spostare qualsiasi tipo di file dalla pennetta o sulla pennetta direttamente dall'iPhone ed è una cosa utilissima. Oltretutto, se avete una penna con un grande storage, perché queste penne partono da 16 GB ma arrivano, se non sbaglio, fino a 256 GB potete perfino effettuare un backup di tutta la galleria delle vostre foto dell'iPhone. Quindi diventa un accessorio fantastico da portare sempre con voi. Oltre che come backup, come hard disk di backup per l'iPhone specialmente se siete in vacanza ve lo consiglio perché è utilissimo e molto molto facile da utilizzare per spostare i file anche da un iPhone a un Android oppure da un iPhone in particolar modo a un altro PC che non sia un Mac o comunque un PC che utilizzi Windows. Ecco, tramite questa penna potete fare tutto ciò. Ecco perché la consiglio e la ritengo utilissima. Oltre a questa però, dall'altra parte, per gli Android utilizzo invece quest'altra penna della SunDisk. Questa qui è una penna semplicissima ma utilissima. Dato che la maggior parte degli Android hanno la porta USB OTG quindi con la possibilità di legge tutte le penne USB esterne ma anche gli SSD questa qui funziona in questa maniera. Da questa parte avete la USB-C e da quest'altra invece avete la USB-A. Molto semplice ma utile. Abbiamo tanti diversi anche qui tipi di storage da 16 GB se non vado a rato fino ai 500 o 12 GB quindi abbiamo uno storage davvero molto notevole e secondo me è utilissima perché con gli ultimi laptop di ultima generazione non utilizzate neanche mai la penna USB-A ma utilizzate sempre la penna USB-C. Mentre quando vi trovate a passare dei file dal telefono a un computer o viceversa anche che non sia di ultima generazione ma abbia ancora le penne USB-A allora avete anche quest'altra porta da quest'altra parte. E poi, soprattutto, è utile perché è piccola. Non costa tanto ed è utilissima perché è anche 3.0 quindi se spostate file di grandi dimensioni o grandi cartelle con tante foto all'interno non avete mai nessun tipo di problema. Questa qui anche ve la lascio sempre qui sotto in descrizione come tutti i prodotti che vi farò vedere in questa recensione. Vi lascio tutti i link per l'acquisto ad Amazon qui sotto. La terza penna invece che state vedendo qui in mezzo questa qui è quella che ve l'ho fatta vedere in una recensione dedicata della Satechi. È una penna spettacolare ragazzi perché è molto semplice. Da questa parte USB-A da quest'altra invece abbiamo l'USB-C in pratica è una penna che ha due porte per leggere le carte. Queste qui sono le classiche SD card quelle grandi che utilizzate per le fotocamere da questa parte invece avete la microSD. A che cosa serve? Per tutti coloro che utilizzano non tanto gli smartphone ma quanto la fotocamera e hanno bisogno di una penna per passare i video velocemente sul PC, su un MacBook ma anche su uno smartphone di ultima generazione come gli Android che hanno la porta OTG quindi possono leggere questi tipi di penne ebbene questa penna è fantastica perché vi permette di non portare sempre con voi un hub che in alcuni casi può essere scomodo perché anche io utilizzo l'hub a due porte o anche quello con il cavo ma diventano un po' troppo ingombranti delle volte sono un po' troppo delicati e delle volte non sono così veloci e soprattutto non possono essere attaccati semplicemente anche al telefono. Invece se vi portare questa penna avete sempre un lettore di carte dietro in tasca e le potete sempre utilizzare sia con laptop che con uno smartphone di ultima generazione. Ecco perché la ritengo essenziale perché di voi utilizza tanto e lavora con foto e con video sia con fotocamere ma anche con i smartphone. Parlando sempre poi di piccole cose ma soprattutto tech in particolar modo di oggetti e gadget che servono per la connettività porto con me quotidianamente da quando ce l'ho anche questo hub della Rapp Power. Per chi di voi non l'ha mai visto andatevi a vedere la recensione perché non vi posso spiegare tutte le funzioni che ha ma è davvero utilissimo anche perché ha una marea veramente di funzioni. Comunque vi faccio solamente vedere che qui davanti alla porta Ethernet USB-C, USB-A abbiamo la possibilità di leggere le SD card da questa parte e potete utilizzare le SD card come hard disk esterno per il backup. Avete la possibilità di anche attaccare gli SD esterni per poter fare non solo un backup direttamente di tutte le foto che avete all'interno della memory card direttamente sull'hard disk. Vi funge come expander per la Wi-Fi. Vi devo dire ragazzi fa davvero tante tante cose. Ecco perché è un altro accessorio che mi ha sorpreso e porto sempre con me. Anche di questo ve lo lascio qui sotto in descrizione il link perché è possibile acquistarlo su Amazon ad un prezzo intorno ai 40€. Comunque è un hub davvero essenziale. Complimenti al RavPower. Molto a tutte le varie penne per la connettività andiamo a vedere adesso anche un altro prodotto che per me risulta molto importante nell'utilizzo quotidiano e davvero lo utilizzo spessissimo. E parliamo delle cuffie in-ear. Un prodotto molto molto importante che molti di voi sto notando hanno un grande interesse. Allora qui vi ho portato due modelli per quali motivo? Perché da una parte abbiamo quello che ho utilizzato di più in quest'anno fra i tanti prodotti che ho provato ho riscontrato che queste Samsung Galaxy Buds sono le cuffie che ho utilizzato di più. Vuoi per il fan factory il design vuoi per le tante funzioni che abbiamo con l'applicazione dedicata vuoi anche per i controlli touch che sono molto molto buoni vuoi per la qualità audio per la multimedialità quindi vuol dire per la musica anche per i video non abbiamo ritardi. Ok abbiamo un po' un compromesso per quanto riguarda non solo l'autonomia rispetto a tante altre cuffie ma comunque è abbastanza buona anche l'autonomia perché abbiamo due ricariche all'interno e le cuffie garantiscono ben 6 o 7 ore se non vado errato di autonomia però comunque abbiamo un po' il compromesso per quanto riguarda l'audio in chiamata perché lo so non sono delle migliori e danno più di qualche problema. Però dall'altra parte i ragazzi nel complesso mi sono piaciute per le sue tante funzioni ma soprattutto per la loro leggerezza compattezza anche il compromesso tra autonomia e portabilità senza contare tutto il fatto che abbiamo anche la ricarica wireless per ricaricare le cuffie ciò vuol dire che se avete un dispositivo Samsung o non Samsung comunque con la ricarica wireless inversa è molto comodo per farle caricare in viaggio quindi queste qui sono quelle che ho utilizzato di più da quando ce l'ho in questo 2019 mentre quest'altre che adesso a breve arriverà anche la recensione completa sono le nuove cuffie della Plantronics mi sembra che si chiamano le 50001 o le 501 comunque qui sotto poi vi lascio il link in descrizione ma fanno parte della famiglia della Backbeat devo dire che lo sto provando da una decina di giorni 15 giorni a questa parte e ragazzi mi sono innamorato poi nella recensione completa vi spiegherò meglio un po' tutti i suoi pro e i suoi contro ma già vi posso dire che hanno un ottimo audio un'ottima qualità audio non solo per la parte multimediale quindi sia per la musica che per i video non hanno nessun tipo di dardo tanto che sono riuscito perfino a montarci un video con queste piccole cuffie ma oltre a questo hanno una caratteristica che stavo cercando da tanto e cioè la qualità audio in chiamata con tutte le chiamate che ho fatto fino ad oggi in questo periodo in questi giorni di prova sono sempre andate bene mi hanno sempre sentito bene dall'altra parte non mi hanno sentito vicinissimo leggermente ma dico un pelino lontano però comunque si sentono bene non sentono i rumori circostanti ed è una caratteristica che non hanno quasi nessun tipo di cuffia cioè quelle che ho provato secondo me non ce l'ha quasi nessuna o comunque non hanno la stessa qualità audio di queste qui fuori abbiamo il pulsantino perché abbiamo tutto un pulsante fisico touch cioè non touch ma fisico e quindi è buono perché anche in questo periodo col freddo con i guanti abbiamo sempre una certa risposta non sappiamo quando stiamo cliccando quindi abbiamo anche un touch and feel differente rispetto ai pulsanti soft touch che utilizziamo con le slide e che non possiamo utilizzare con i guanti o comunque a meno che non avete i guanti touch però comunque la sensibilità è decisamente molto differente oltre a questi aspetti poi mi sono piaciuti anche per il design compatto porta usb qua sotto abbiamo due ricariche all'interno del cofanetto il cofanetto stesso questo è molto piccolo ve lo metto anche a fianco delle galaxy buds guardate qui come siamo quasi sullo stesso livello a livello di dimensioni quindi è per questo motivo che mi sono piaciute poi nella recensione ve ne parlerò in maniera un po' più approfondita però per ora vi posso dire che queste qui oggi rientrano fra gli accessori che porto sempre con me quotidianamente in giro rimanendo sempre in tema di multimedialità ma soprattutto parlando di cuffie un'altra cuffia che utilizzo sempre ma è una categoria decisamente differente sono fra le cuffie chiuse e ultimamente da quando le ho comprate ormai utilizzo solo queste Sony queste qui sono le VH1000 MX3 se non vado a rato poi non mi ricordo mai bene i nomi o comunque i codici di questi prodotti Sony però ragazzi queste qui sono fantastiche non nascondo nel dirvi che secondo me fra quelle che ho provato anche fra i modelli che non vi ho portato come recensione sono fra le migliori sul mercato sono belle si sentono benissimo hanno uno dei migliori cancellazioni di rumori attive perché quando ve le mettete voi grazie al patiglione che è molto grande quindi l'orecchio va all'interno voi grazie alla loro tecnologia non sentirete più nulla poi hanno una connessione molto stabile si connettono bene con gli Android e con gli iPhone abbiamo i controlli soft touch nella parte esterna si possono richiudere sia in questa maniera che sia in quest'altra all'interno della confezione di vendita troverete anche questo fantastico cofanetto per portarle sempre con voi abbiamo il cavo chiaramente jack perché possono essere collegate anche tramite jack abbiamo perfino lo switch qui con due jack per poter ascoltare con due cuffie sullo stesso dispositivo quindi che dire ragazzi queste qui sono ormai diventate un mio compagno non solo di viaggi ma anche compagno a livello giornaliero perché anche quando vado in giro per la città delle volte utilizzo proprio queste ma anche se devo uscire fuori per montare dei video perché lavoro fuori con il computer mi porto sempre queste perché ve le mettete non sentite più nulla vi isolate da tutto il contesto e lavorate tranquillamente quindi sono davvero un fantastico prodotto queste qui hanno un prezzo di 270-300 euro io vi lascio comunque il link qui sotto ad Amazon passando invece adesso alla parte degli indossabili quindi tutti gli smartwatch o fitness track fitness band che cosa indosso quotidianamente allora in quest'ultimo periodo da quando ho l'iPhone 11 Pro Max sto utilizzando l'Apple Watch Serie 5 l'avete visto in tante diverse recensioni con tanti diversi gadget e tanti altri oltretutto ne arriveranno nelle prossime settimane mi ci trovo bene sicuramente è un buono smartwatch ma sicuramente non è neanche il migliore perché ha diversi punti negativi poi vi dirò se nel caso vi interessa una recensione completa con un confronto con questi poi invece quando vado a utilizzare gli smartphone Android ultimamente sto utilizzando tantissimo non solo il Samsung Galaxy Watch che lo continuo a ritenere uno dei più completi uno dei migliori seppur anche lui chiaramente ha i suoi Pro e i suoi Contro però nel mio utilizzo vi devo dire mi manca solamente l'integrazione con una buona applicazione di mappe per il resto fa davvero un buon lavoro forse ecco qualcosa che mi manca di questo smartwatch sono la gestione delle notifiche con Whatsapp perché vi arrivano ma poi ve l'ho detto già nell'ecensione completa non sono proprio il massimo però comunque ci potete rispondere apprezzo tanto la tastiera piccola la mini tastiera che c'è integrata perché sembra una cosa stupida ma se non vogliamo rispondere con la voce questo qui è il sistema più comodo per poter rispondere a qualsiasi notifica qualsiasi messaggio invece poi dall'altra parte da quando mi è stato regato da Fitbit uno smartwatch interessantissimo ragazzi secondo me questo qui si posiziona qui in mezzo si posiziona anche anzi tra questi tipi di smartwatch e di sportwatch quindi il Garmin i Polar comunque tutti quelli smartwatch che sono più rivolte allo sport ma hanno una grande batteria però hanno dall'altra parte anche poche funzioni smart ecco questo qui si piazza in mezzo perché ha diverse funzioni smart non tante quanto un Galaxy Watch o non integrato bene come un Apple Watch dove abbiamo la risposta per esempio qui col tasterino qui abbiamo diversi tipi di gestione delle notifiche fatte un pochino meglio anche Telegram Whatsapp su entrambi si gestiscono meglio però qui abbiamo la possibilità di rispondere con Amazon Alexa e soprattutto questo Fitbit Versa 2 mi riesce ad arrivare fino a 7 giorni di utilizzo monitorando anche il sonno che è una cosa che io apprezzo davvero tanto perché mi piace mettere uno smartwatch portarlo al polso fin quando non si scarica ma non portarlo per uno o due giorni mi piace portarlo al polso costantemente per monitorare un po' di tutto ecco perché continuo ad utilizzare questi tre smartwatch ma oltre a questi tre smartwatch qui a fianco vedete anche un altro fitness band anche un altro fitness tracker che oltretutto l'ho comprato anche recentemente e qui infatti abbiamo il Fitbit Charge 3 HR ciò vuol dire che qui sotto abbiamo anche un sensore di battito cardiaco voi mi direte per quali motivo hai acquistato anche questo se già avevi tre smartwatch perché? perché in pratica con il tempo mi sono reso conto che continuando a provare a testare e a recensire smartwatch sempre differenti e passando soprattutto tra uno smartphone e un altro in particolar modo quando si passa da Android a iOS io non avevo mai un quadro generale di tutto quello che monitoravo con tutti questi smartwatch perché una volta passavo da questo a questo e qui si registrava su Samsung su Samsung Health poi passavo a Fitbit e qui si registra sulla loro applicazione Fitbit dall'altra parte quando sono passato poi recentemente all'iPhone tutto quello che registrava l'Apple Watch si registra su salute e oltretutto quando poi tornavo indietro torno indietro su Android non posso utilizzare l'Apple Watch e quindi di ognuno ogni volta perdevo tutti i dati che andavo a monitorare e che andavo a salvare e quindi ho detto perché non farmi un fitness band o comunque un bracciale che posso tenere al polso sempre e che può essere poi universale e adatto a tutti gli smartphone che provo e allora ho acquistato questo Fitbit Charge 3 perché secondo me rimane ancora uno fra i migliori oltretutto il più bello esteticamente personalmente lo trovo davvero molto molto bello molto sportivo bellissima questa versione poi speciale con il cinturino forato e poi lo trovo uno smartband completo non solo per le sue funzioni che ha integrate perché veramente qui si va a monitorare di tutto ok non abbiamo il GPS ci potrebbe essere anche ci sono anche altre bande di questo genere altre fasce che hanno il GPS integrato però l'applicazione Fitbit secondo me rimane fra le migliori fra le più complete e l'ottotutto quando devo passare da uno smartphone Android all'iPhone non mi si resetta tutto lo smartband o comunque l'indossabile ma tutti i dati questo qui continua a funzionare si deve solamente collegare al nuovo smartphone e tutti i dati vengono passati da una parte a un'altra perché sono tutti salvati sempre sull'applicazione di Fitbit poi chiaramente quando utilizzo questo questo qui lo posso anche non portare però al tempo stesso quando utilizzo tutti gli atti smartwatch e tutti gli atti smartphone ho sempre un punto di riferimento che è questo qui che è il nuovo Fitbit Charge 3 e quindi ho tutti i dati salvati sulla loro applicazione senza contare il fatto che questa band dura ben sette giorni di autonomia e mi riesce a monitorare anche il sonno quindi ho sempre un quadro completo di tutto quello che faccio e tutto quello che mi riesce a monitorare la band ma dopo aver visto tutti questi dispositivi mobile elettronici che porto con me andiamo a vedere adesso invece con che cosa le ricarico allora di powerbank attualmente ne ho veramente tante a casa ne ho anche di molte più piccole ma ho fatto caso che a parte qualche modello che va a ruotare quelle che porto sempre con me da quando ce l'ho quindi in questo 2019 devo dire le ho portate quasi sempre non solo a livello quotidiano nello zaino ma anche quando vado fuori per lavoro anche in viaggio sono questi due modelli da questa parte abbiamo l'ultimo modello della powerbank di samsung da 10.000 mAh tutto corpo in alluminio satinato davvero molto bella ma soprattutto molto resistente credetemi l'ho portata con me in tanti viaggi l'ho sbattuta a destra e a sinistra non si è mai fatta nulla mi piace perché abbiamo un corpo che è abbastanza sottile le dimensioni non sono ok delle più contenute perché guardate qui è grande quanto un pixel 4 xl ma abbiamo 10.000 mAh abbiamo due porte USB-C USB-A USB-C anche per la ricarica abbiamo il LED di stato qui davanti ma soprattutto la cosa che mi ha interessato di più e che mi ha fatto comodo è stata la ricarica wireless veloce infatti qui abbiamo la fast charge non solo per i telefoni ma mi è stata utile in tante diverse occasioni quando ho portato con me portavo con me il Galaxy Watch perché lo posso abbinare qui sopra lo posso appoggiare e lo smartwatch si va anche a ricaricare non è una cosa da tutti perché non tutte sono compatibili con questo tipo di ricarica e soprattutto non tutte le batterie riescono a ricaricare questi smartwatch il che mi è fatto molto molto comodo quando l'ho utilizzata specialmente quando sono in viaggio ma anche durante il giorno quando non ho utilizzato quando non ricaricavo durante la notte lo smartwatch e delle volte mi capitava di appoggiarlo qui sopra e metterlo in ricarica poi è tutto potere comunque caricare un secondo dispositivo direttamente dalla porta qui sotto con il cavo ecco perché mi è stata utilissima questo tipo di powerbank invece dall'altra parte abbiamo il gigante dell'otto da quest'altra abbiamo una powerbank da Lake Storm davvero fenomenale ragazzi da quando l'ho provata da quando ve l'ho recensita non ne ho fatto più a meno non ho potuto più fare a meno di portarlo con me sempre quasi sempre ogni volta che porto il laptop e qui parliamo della Lake Storm da ben 27.000 mAh la particolarità di questa batteria oltre al fatto ad avere ben 4 porte in uscita e una che funge da in e out quindi anche per ricaricarla abbiamo 3 porte USB con ricarica veloce questa qui ha la caratteristica di avere un'uscita che è questa qui USB-C a ben 60W quindi vi riesce a far caricare anche il laptop e 27.000 mAh vi assicuro che con il mio laptop con il MacBook da 15 pollici mentre sto lavorando mi riesce a caricarlo anche oltre il 60% e non è cosa da poco perché è una cosa fastidiosissima quando siete in giro non so per quanti come a me utilizzano il laptop per lavoro fuori e non sono sempre a casa è una cosa fastidiosissima quando si sta scaricando il computer e non sapete mai dove attaccarlo ecco se avete questa necessità allora vi consiglio questa powerbank anche perché su Amazon o comunque anche sul sito dell'azienda potete anche scegliere il set con due tipi differenti di cavi infatti da questa parte abbiamo due piccoli cavetti che sono comodissimi perché quando voi non volete portare con voi i vostri cavi quelli lunghi avete sempre due cavetti qui integrati da questa parte abbiamo quello là USB-C dall'altra in questa occasione era quella con la micro USB ma potete sempre scegliere anche la versione con la porta lightning che è una cosa molto molto comoda o tutti questi piccoli cavetti da integrare sempre da Lake Storm sono disponibili da acquistare separatamente anche su Amazon quindi una volta che voi lo acquistate poi lo potete anche cambiare con il tempo man mano che vi andate ad aggiornare di smartphone qui sopra abbiamo il tastino che ci indica la batteria rimanente e ci fa anche vedere quando entra in carica un dispositivo e quindi ragazzi che dire è una batteria che se avete la necessità come a me di ricaricare il laptop in giro perché lavorate molto spesso fuori casa o fuori studio allora vi consiglio questo gigante questo gigante da Lake Storm il prezzo di questa batteria è di 110-120 euro comunque è un prezzo abbastanza alto ma fidatevi che va molto molto bene mentre la Samsung costa intorno tra i 30 e i 40 euro su Amazon anche questa qui si trova su Amazon io comunque vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione poi fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate di queste powerbank ma adesso invece arriviamo un po' ai contenitori la led bag smart che utilizzo per portare tutti questi accessori e tutti questi gadget che vi ho fatto vedere fino ad ora perché solitamente non li vado a inserire tutti nelle singole tasche degli zaini perché quando so che devo cambiare zaino o mi trovo poi a dover recensire più di qualche zaino nello stesso periodo allora so che già che le devo cambiare e non mi conviene sparpagliare tutti i prodotti all'interno delle piccole taschine ma li porto tutti con me dentro in un'unica bag smart dentro un unico case dove ogni volta quando cambio zaino lo sposto tutto e so che ho tutto qui dentro ecco quello che ho utilizzato di più in questo anno o comunque che continuo a utilizzare costantemente è questo qui della Thule seppure grande ma questo power shuttle plus mi sembra che si chiami è davvero comodissimo ragazzi perché ha tutte le tasche che mi fanno più comodo o tra il fatto che ha una certa altezza e un certo spazio dove posso anche andare a inserire le mie cuffie della Sony e le utilizzo molto più spesso con questo tipo di bag smart che con il loro case perché mi è veramente comodissimo qui dentro riesco anche a infilare poi il cavo jack o altri accessori ma ho le tasche giuste per andare a inserire tutto il resto per esempio i vari cavi connettori per i due hard disk portatili che porto con me in caso di emergenza porto questi due della sandisk che sono entrambi da un terabyte questo qui è l'extreme molto più sportivo molto più resistente mentre questo qui è il western digital molto più elegante anche molto più classico ma leggermente meno resistente se volete non so portarlo con voi in montagna per qualche scampagnata o anche non so per qualche avventura o qualche viaggio vi consiglio più l'extreme comunque queste due sono due taschine perfette oltretutto qui potete anche inserire una power perché anche qui avete il foro che vi permette di far uscire il cavo fuori all'esterno dalla parte posteriore ve la faccio adesso vedere qui dietro e qui dietro potete anche inserire non so appoggiare uno smartphone mentre si sta ricaricando quindi anche questa è molto molto comoda come funzione ma oltre a questo oltre ad avere lo spazio per le cuffie mi accomodo anche da questa parte perché qui ho una tasca dove vado ad inserire tutte le penne usb le penne anche sandischi in più i vari connettori i vari cavetti qui abbiamo tutti i vari cavi per connettere tutti gli altri dispositivi e qui dentro ho ancora altri cavi per poter andare a connettere gli hard disk esterni gli smartphone le cuffie ho davvero tante tante cose all'interno di queste tasche ecco questa qui è uno delle bag smart che ho utilizzato di più devo dire è molto molto valida si ok non è delle più sottili perché abbiamo anche la versione ve l'ho fatta anche vedere in una recensione della power shuttle quella più piccola ma se utilizzate le cuffie grandi allora vi consiglio di utilizzare questa perché non dovete portare due case ma ne portate uno e mettete tutto qui dentro recentemente però mi è stata mandata anche da un'altra azienda un altro tipo di bag smart che sto utilizzando davvero tanto in questi ultimi giorni e si tratta del nuovo mi sembra che si chiami poch tech o tech poch della peak design infatti l'azienda mi ha mandato oltre al nuovo peak design everyday backpack zip che vi porterò la recensione completa poi nelle prossime settimane nei prossimi giorni perché lo sto testando lo sto utilizzando proprio in questo periodo l'azienda mi ha mandato anche questa comodissima bag smart integrata nello zaino e vi posso dire ragazzi che è molto comoda non sarà grande non sarà completa quanto la thule ma all'interno abbiamo solamente quattro tasche che oltretutto due non sono elasticizzate che sono queste qui mentre le altre due qui da questa parte sono elastiche abbiamo solo il tascone da quest'altra e abbiamo un'altra piccola tasca da questa parte con la zip che oltretutto è una tasca anche ben nascosta vedete qui all'interno da questa parte poi avete la zip ecco seppure non è molto grande e non è molto completa di tante tasche tanti taschino tanti retini beh vi posso dire ragazzi però è comodissima oltre il fatto che ha un materiale che è davvero resistentissimo è anche leggermente impermeabile perché comunque qui l'acqua riesce ad entrare però comunque se è soggetto a questa parte ha schizzi d'acqua oppure viene bagnata all'interno l'acqua non passa ma è comoda perché ha differenti tipi di grandezze perché grazie a questo tipo di sistema di chiusure voi se avete tanti oggetti all'interno l'andate a chiudere in questa maniera e quindi la la backsmart si andrà un po' ad allargare adesso ve la simulo quando abbiamo tante cose e quindi occuperà certe dimensioni invece quando voi non andate a utilizzare tanto comunque avete all'interno pochissime cose la cosa comoda è che questa tracolla o comunque questa backsmart può essere chiusa può essere chiusa un pochino di più e quindi si può andare a stringere ed è comodissimo questo sistema mi piace tanto il materiale mi piace tanto la colorazione mi sono state comode molto le taschine mi è stato comodo anche questo tipo di sistema per portarla alla cinta dei pantaloni per portarla all'interno di una tracolla o per portarla anche attaccata con se avete la tracolla quella proprietaria della bit design con l'attacco e lo sgancio veloce beh in questo caso è comodissimo anche per portare questa piccola backsmart e mi è comoda perché ogni tanto vado a togliere le cose però all'in poi le vado a rinserire all'interno dello zaino e non mi serve tanto spazio perché si può andare a stringere e diventa molto molto sottile ecco il punto forte di questa backsmart e vi posso dire che la sto riscoprendo man mano giorno per giorno man mano che la sto utilizzando anche perché all'interno poi ci porto davvero tante cose e sembra piccola ma quando la andate a chiudere in questa maniera qui sopra in alto vi posso dire che è molto molto spaziosa io spesse volte ci porto con me non solo le cuffie o le cose più piccole ma porto anche le varie powerbank porto anche qualche telefono di riserva qui dentro perché abbiamo questa tasca nascosta che devo dire è molto molto utile è fatta davvero molto bene io comunque anche di questo vi lascio il link qui sotto in descrizione ma sicuramente poi ne torneremo a parlare quando vi recensirò il nuovo zaino della Peak Design Everyday Backpack Zip e infine ragazzi arriviamo agli ultimi tre accessori che porto costantemente quotidianamente in tasca in tasca ai pantaloni in tasca alla giacca e quali sono questi tre accessori abbiamo in mezzo il portafoglio questo qui è il classico Segrid ormai penso di conoscere tutti ve l'ho fatta vedere anche in tante altre varianti in tante altre colorazioni in differenti modelli anche simili al Segrid ebbene tra i tanti modelli che ho provato tra le tante varianti continuo a preferire il Segrid continuo a preferire questo qui per le sue dimensioni un po' più compatte per la possibilità di chiuderlo con la clip per avere ben 6 carte all'interno del case con la protezione RFID per un design per un form factor che mi è molto molto utile molto comodo sia a livello giornaliero ma anche in viaggio sia per come sono stati organizzati il portaliquidi il portacontanti sia anche per la presenza di queste due taschine qui dietro che sono realmente essenziali per portare la carta dalla metro altri billetti nella visita oppure anche altri tipi di carte oltretutto poi qui dentro come porto anche un altro accessorio che volevo farvi vedere questo qui si tratta del Cipolo è un Tile in pratica è un GPS che viene connesso allo smartphone tramite questo potete far squillare lo smartphone e viceversa quindi dallo smartphone potete anche far squillare questo ma la cosa importante non è fallo squillare quanto è che vi salva la posizione fin tanto che i due sono connessi quindi il Tile è connesso allo smartphone lo smartphone vi darà la posizione abbastanza precisa esatta del Tile invece nel momento in cui lo perdete quindi non avete più la connessione vi darà l'ultima posizione salvata vi posso dire che è molto molto utile specialmente se perdete un qualcosa di valore come il portafoglio come uno zaino vi potrebbe far comodo per ritornare all'ultima posizione dove eravate o comunque l'ultima posizione dove l'avete perso quindi vi consiglio di utilizzarlo e di acquistarlo io vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione in particolar modo questo slim perché si infila veramente ovunque oltre poi al portafoglio quali sono gli AT2 accessori che ho portato qui con me abbiamo il portachiavi portachiavi che è i smart da quando lo sto utilizzando non riesco più a farne a meno ho risolto il problema delle chiavi penzolanti delle chiavi che dondrano che fanno rumore ma soprattutto che mi rovinano tutte le tasche dei pantaloni perché utilizzando questi tipi di chiavi anche semplici con questo tipo di righettatura era un continuo che mi andavano a rovinare le tasche dei pantaloni delle giacche ma soprattutto anche degli zani invece in questa maniera andiamo a richiudere all'interno e il gioco è fatto quando ci serve una chiave la andiamo a tirare fuori sì lo so ho questa chiave che va a sporgere e devo dirla sto odiando con il tempo però comunque se ce l'avete è meglio utilizzarla in questa maniera e per o meno è leggermente un po' più compatta rientra leggermente all'interno che utilizzarla con il classico portachiavi oppure perdela perché la portate singolarmente perché devo dire è molto comodo utilizzarlo in questo modo poi qui avete il sistema di espansione tramite questi cilindri se nel caso avete più chiavi o comunque potete gestire voi quanti chiavi volete le potete inserire veramente tante avete anche due vitarelle di ricambio più lunghe o più corte e sono molto molto utili io ve lo consiglio sia se portate con voi due chiavi tre chiavi ma sia anche se ne portate cinque, sei, sette qui mi sembra che riescono a entrare senza questo tipo di chiave fino a dieci, dodici chiavi quindi è molto molto utile e soprattutto è molto compatto anche di questo vi lascio sempre il link anche qui sotto in descrizione e poi l'ultimo prodotto che porto con me ormai da quando ce l'ho lo amo lo adoro è questa qui questa piccola sacchetta del lama con anche il gancetto suo per attaccarlo a, non so a una tragolla anche ai jeans o anche a un passante dei pantaloni che cosa abbiamo qui all'interno? un panno per pulire i telefoni per pulire le lenti dei telefoni per pulire anche le lenti delle fotocamere ma lo utilizzo anche tantissimo per pulire per esempio gli occhiali perché ogni volta che porto con me gli altri panni classici li vado a infilare in tasca e si sporcano le infilo all'interno dei rizzani e si sporcano e quindi ogni volta mi tocca o lavarli oppure comunque risultano sempre sempre sporchi e quindi anziché andarli a pulire le lenti che siano esse dei telefoni o degli occhiali o anche il semplice smartwatch se volete pulire il display ve le vanno a sporcare invece in questo caso in questa maniera l'andate a ripiegare l'andate a inserire qui dentro e il gioco è fatto in modo tale che rimane sempre pulita e rimane sempre ben coperta anche questo qui vi lascio i link qui sotto in descrizione di soli 11 euro lo so non sono pochissimi ma fidatevi ragazzi una volta che la provate non la perderete più e non la lascerete più perché è davvero molto molto utile un panno di questo genere e quindi ragazzi siamo arrivati anche alla fine di questa recensione avete capito quali sono gli accessori i prodotti che utilizzo di più costantemente e quotidianamente tra i tanti che vado a recensire ma anche in parte quelli che ho utilizzato di più all'interno di quest'anno all'interno di questo 2019 poi avete notato come alcuni prodotti come gli smartphone come gli smartwatch o anche le cuffie che sono accessori o prodotti che vanno a ruotare molto spesso però diciamo che recentemente in questo breve periodo sono questi qui gli accessori che ho utilizzato di più e che continuo ancora oggi a utilizzare quotidianamente perché sono davvero degli ottimi prodotti proprio a qualsiasi altra domanda dubbi o informazioni ragazzi lo sapete sono qui a vostra disposizione mi potete sempre chiedere qualsiasi cosa qui sotto nei commenti su youtube oppure contattarmi anche in privato tramite i vari canali social a cui io poi come ogni volta vi invito sempre per iscrivervi in primis al gruppo di Instagram al gruppo di Telegram oppure al canale anche di Instagram come al solito vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione e ragazzi noi ci vediamo sicuramente alla prossima video recensione mi raccomando se vi è piaciuto questo video un bel like non scordatevelo perché mi fa sempre molto piacere e mi fa capire se vi piacciono questi tipi di recensioni e soprattutto questi tipi di prodotti da Pier Giorgio Times Gadget buona giornata a tutti e grazie ancora